Fabio Basile potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip3 in programma quest'autunno su Canale 5. Il settimanale Spy, in edicola da domani venerdì 7 settembre, ha svelato in anteprima il cast del celebre reality show condotto da Ilari Blasi con la presenza in studio di Alfonso Signorini. Il campione olimpico di Rio 2016 dovrebbe essere tra i partecipanti ad agosto era stata smentita la sua presenza e si era parlato di un veto da parte del suo gruppo militare di appartenenza e della federazione, un ostacolo che dunque sarebbe stato superato e che potrebbe permettere al 24enne di entrare nella casa più spiata d'Italia. Ricordiamo che i mondiali di judo sono in programma dal 20 al 27 settembre a Baku, Azerbaijan mentre il programma incomincerà il 24 settembre ma siamo abituati a vedere concorrenti che entrano in corso d'opera. Cast molto ricco in cui figurano anche Walter Nudo, Ivan Cattaneo, Francesco Monte protagonista del Cannagate che fece tanto clamore qualche mese fa, le sobrette Donatella se Elisa Fusco, l'attrice Eleonora Giorgi, il comico Maurizio Battista, l'ex velino Elia Fongaro, lo chef Andrea Mainardi, ma anche la meteorina Martina Andi, Giulia Salemi da Pechino Express, Enrico Silvestrini e Jane Alexander. .celebritiesdenend.noen.fotogallery o celebritiesdenend.punto.stentend.iv.1 o clicca qui per mettere mi piace alla nostra pagina Facebook clicca qui per iscriverti al nostro gruppo clicca qui per seguirci su Twitter. .